Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Maxime Vachella Grave è il campione del mondo blitz di scacchi, quindi nella cadenza 3 più 2. Infatti il francese ha vinto il campionato mondiale che si è svolto in questi giorni a Varsavia. E là vediamo subito questa partita che è proprio la partita finale di questo campionato del mondo in cui si è visto contendere il titolo contro Duda nella finale a 3 più 2. Allora vediamo subito, ma prima di cominciare ti invito a che credo sia su iscriviti per non perdere i prossimi video. Infatti farò anche due video, uno in cui commenterò la partita più bella secondo me di questo campionato rapid e uno in cui commenterò una disfatta. Infatti è stato un campionato mondiale con tantissimi colpi di scena ma quella più clamorosa sicuramente è stata quella di Karsen. E non è una macchina, infatti è umano anche lui e ha perso molte partite e allora porterò qui una partita se non è molto importante che vede il protagonista ovvero il campione mondiale Maxime Vachella Grave contro Karsen. Iscrivetevi anche a YouTube così non vi perdete questi prossimi video veramente interessanti. E allora questa partita vede Vachella Grave col bianco e Duda il fortissimo grande maestro col nero. E4 e E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Quindi apertura spagnola, sceglie Vachella Grave, il francese grande maestro, A6, alfiere A4, cavallo in F6, arrocco corto, alfiere in E7. Fin qui variante principale, giocatissima soprattutto ai grandi livelli, infatti l'abbiamo vista tantissime volte e giocata anche da Karsen. D3 qui Opta Vachella Grave. In realtà Torre 1 è la principale quindi probabilmente vuole un po' uscire dalla linea principale. Vi faccio vedere che linea ma un po' più velocemente. B5, B3, D6, A4. Questa è una linea che abbiamo già approfondito in questo canale YouTube. Magari vi lascio qui sopra il video di apertura spagnola in 10 minuti così non vi perdete nulla dell'apertura spagnola. D3 invece gioca Vachella Grave, B5, alfiere B3. Qual è l'idea di D3? L'idea è tenere un gioco un po' più chiuso, quindi non aprire subito il centro ma magari ritardare. In ogni caso l'idea di C3, D4 sarà sempre nella mente del giocatore del bianco quando gioca all'apertura spagnola perché è un modo per aprire il centro, conquistarlo e ottenere vantaggio di spazio che è il vantaggio principale di questa apertura. Ecco perché a me piace molto, infatti adoro giocare quando c'è vantaggio di spazio, quando posso manovrare con i pezzi e creare un attacco. D6 gioca il nero, si tiene quindi l'idea anche di uscire dal fiera in questa diagonale ma probabilmente la mossa più corretta sarà alfiere B7. In ogni caso il nero ha entrambe le scelte, questo è molto interessante, lo vedremo spesso nelle partite dei grandi maestri che a volte ritardano lo sviluppo per capire il bianco cosa vuole fare e poi decidere dove sviluppare i pezzi. A3, anche questo è un po' strana, A4 è molto spesso giocata dal bianco con l'idea di contrastare subito il B5, però è corretta, esiste anche A3, probabilmente in questo caso l'idea è evitare che il cavallo possa saltare in B4 in futuro. Arrocco corto, cavallo in C3, ecco senza A3 magari B4 poteva essere interessante perché dava fastidio al cavallo bianco, quindi A3 la previene. Cavallo in B8, molto interessante, il cavallo torna indietro, una mossa inusuale, ma l'obiettivo sarà quello di portare il cavallo in D7 e quindi riciclarlo in posizioni migliori. Inoltre lascia anche via libera al pedone C che potrebbe quindi spingersi. Alfieri in D2, cavallo in D7, A4, il bianco quindi torna in quel piano di cui avevo citato prima, quindi con l'idea di dare fastidio al cavallo in B5. B4, ecco che il nero subito vuole dare fastidio al cavallo bianco e quindi lo attacca col pedone. Cavallo in D5, A5, infatti il pedone è sotto attacco da due pezzi e quindi deve essere difeso. C3, pedone per, alfiere per. Il bianco decide di mangiare di alfiere e non di pedone, probabilmente perché D4 comunque riuscirà ad essere giocata e quindi non è un problema mangiare di alfiere. Cavallo in C5, cavallo per F6, alfiere per F6, alfiere in D5. Quindi cambio dei cavalli e si conquista la casa centrale in D5 con l'alfiere. Qui il nero gioca torre in A7, ma poteva essere giocato alfiere in B7. Probabilmente anche migliore, infatti dopo il cambio degli alfieri, cavallo in D2, torre in E8, qui il nero ha un'ottima posizione. Non ha alcuna debolezza, assolutamente. Anzi, forse il fatto che la colonna B è aperta potrebbe costituire un punto di attacco per il nero e quindi dare un leggerissima iniziativa. Non si tratta di vantaggio, ma quanto di iniziativa. Torniamo indietro perché torre A7 gioca il grande maestro Duda. Donna C2 fa Maxime Vercelagrav. E qui alfiere G4 gioca il nero, ma attenzione perché con cavallo E6 Duda guadagnava un leggero vantaggio. Sì, perché evita D4, qui il bianco non può in alcun modo spingere D4. Infatti sono addirittura tre pezzi, pedone, cavallo e alfiere, che attaccano la casa D4. E inoltre il nero può andare col cavallo in F4. Ottima posizione, qui il bianco veramente è un po' in crisi posizionalmente parlando. Quindi un peccato per Duda non aver visto cavallo E6 che lo portava in una posizione veramente ottima. Per esempio, poteva continuare la partita con B4, penone per, alfiere per, cavallo F4, ottenendo senza alcun dubbio una veramente ottima posizione. Invece l'alfeere G4, cosa risponde secondo voi Vercelagrav? Consigliando che cavallo E6 serviva per evitare D4, esatto, immagino avete tutti risposto D4. Infatti qui Vercelagrav vede che il nero non ha evitato la spinta D4 e allora deve subito spingere questo pedone per non rischiare di rimanere arretrato nel centro, deve conquistare il centro. Pedone per, cavallo per, alfiere in D7. Cavallo in B5, l'alfiere può mangiare il cavallo, infatti è proprio quello che accade, però in questo modo il nero perde la coppia di alfieri. Infatti il pedone per rimanere l'alfiere perde quindi la coppia di alfieri. Probabilmente torre in A6 poteva anche essere giocata con l'idea di mantenere la coppia di alfieri, che sappiamo essere un vantaggio. Infatti nei finali due alfieri contro alfiere e cavallo, contro due cavalli, sono meglio sempre i due alfieri, perché riescono a governare tutta la scacchiera. Per esempio poteva continuare con B3, alfiere per, donna per, torre in B6 e qui la posizione è assolutamente in parità. Invece cambio degli alfieri, pedone per, alfiere per C3. Giustamente il nero evita questi finali con il bianco con la coppia di alfieri e quindi subito cambia l'alfiere camposcuro, via. Donna per C3, gioca il bianco. Si può aggiungere anche B per C3. Non so perché il francese, Fascella Grava, ha deciso di mangiare di regina. Qui, secondo me, B per C3 e C4 mi sembra veramente buona. Probabilmente ha mangiato di regina magari per fare B4, magari per cambiare il pedone in questo modo, perché attualmente i due pedoni doppiati e isolati sono deboli, sono un punto di debolezza del bianco. Ma magari ha visto questa mossa, è probabile. Sicuramente avrà analizzato più di bene. A4, donna in E3, donna in B8, alfiere in C6 per difendere il pedone in B5 e che questo pedone crea anche un ottimo punto anche di forza per il bianco, perché è vero che non è passato ma comunque è avanzato. E come vedete limita il movimento del nero. Questa regina vorrebbe conquistare la colonna B, ma appunto c'è il pedone in B5. Donna in B6, torre in D1, torre in B8, E5. Quindi una spinta di rottura per aprire un po' le linee e creare magari un po' di scompiglio nella posizione. Cavallo in E6, gioca il nero che vuole proporre un cambio di regine. Cambio di regine che viene accettato. Versailles Grave decide di cambiare le regine, torre per, pedone per D6, pedone per D6, torre per D6. Ricordiamo che la partita è a 3 più 2, quindi i giocatori hanno proprio pochi secondi per pensare e devono subito muovere. Quindi è veramente difficile analizzare le varianti in profondità. Nelle lampo in genere si cerca di analizzare subito le varianti tattiche, appunto per non perdersi. Si tiene meno conto delle varianti posizionali, perché un errore posizionale in una blitz conta meno rispetto a un errore tattico che ti fa subito perdere la partita. A3, pedone per, torre per, e qui il bianco quindi ha un pedone di vantaggio. Un ottimo pedone di vantaggio, come vi dicevo, questo primo B5 potrebbe essere una spina nel fianco del nero, ed è così. Ed è così perché è un pedone passato, già avanzato. G3, il bianco si crea la via di fuga, questo è molto importante nei finali, soprattutto di torri per evitare eventuali matti nel corridoio. G6, anche il nero fa lo stesso, torre in D7, si conquista la settima traversa, concetto fondamentale per le torri, torre in B8, torre B1, e si porta anche l'altra torre ad attaccare, ma più che attaccare a difendere il pedone e supportarlo nella spinta, verso la promozione. Qui torre in C3 gioca il nero, ma a cavallo C5 era ottima. Era ottima perché portava la parità. Infatti torre C7, torre B3, torre per, cavallo per, questo finale potrebbe essere pareggiato, ok? Non è assolutamente semplice, probabilmente Blitz e il francese Vachelrave l'avrebbero comunque vinto, perché è difficile trovare tutte le mosse corrette, ma con meno torri potrebbe essere più facile pareggiarlo. Invece, torre in C3, torre in A1, la torre si libera nella corona e è pronta ad intervenire. Cavallo in D8, alfiere in D5, attenzione perché ora si attacca il punto F7, il nero inizia a essere un po' in crisi. E' stato lasciato il punto B5 di proposito sotto, infatti non può essere mangiato perché c'è il cavallo in presa. Re in F8, il re cerca di dare aiuto ai pezzi del nero. Torre in A7, ora sono due torre in settima, posizione veramente devastante per il bianco. Torre in D3, si inchioda l'alfiere in modo tale da evitare un'eventuale alfiere per F7. Re in G2, o meglio, alfiere per F7 potrebbe anche essere fatta, però poi probabilmente si perde, perché c'è torre per D7, torre per D7, cavallo per F7, quindi si perde l'alfiere. Ecco perché dicevo, evitare alfiere per F7. Andiamo avanti, re in G2, il re come sempre nei fieni si è portato verso il centro, ecco perché una mossa di re non è affatto sbagliata. Re in G7, alfiere in C4, si propone un cambio di torri, ma soprattutto si difende il pedone in B5. Torre per, torre per, re in F6, siamo arrivati nel finale clou di questa partita, della finale del campionato del mondo. B6 gioca il nero, quindi spinge il pedone, sfruttando ancora questo tatticismo, e il fatto che il cavallo è difeso solo dalla torre, quindi la torre non si può spostare dall'ottava traversa. E allora il cavallo viene mosso, giustamente Duda non può sottostare a questi trucchetti, muove il cavallo. B7, ma il pedone è arrivato, è arrivato ed è protetto dalla torre, ma soprattutto in casa bianca, questo è importante, perché cavallo C5 non va, in quanto cavallo in C5, ok, qui ci sarebbe anche torre per F7, perché l'alfiere attacca, ma quello che volevo dirvi è che, nel caso in cui il cavallo e la torre attaccassero contemporaneamente il pedone in B7, l'alfiere potrebbe difenderlo, perché appunto, con l'alfiere D5, l'alfiere, il pedone è in casa bianca, e quindi può essere difeso. Cosa che non potrebbe accadere, magari, se il nero fosse riuscito a bloccare il pedone in settima, quindi immaginate il pedone in B6, magari la torre in D6 e la torre in B7, in questo caso, col pedone in casa nera, ci sarebbero stati dei margini di miglioramento per il nero, infatti, se poi il cavallo fosse riuscito ad attaccare il pedone, sarebbe stato mangiato banalmente, e invece il bianco è riuscito a farsi bloccare il pedone, solamente nell'ultima traversa, quando è in casa bianca, e quindi qui, praticamente, le chance sono ora pochissime. G5, alfiere per E6, re per E6, torre in C7, si cambia alfiere, perché qui il francese, fa c'è la grave, sa che il finale è vinto, lo sa per certo, e probabilmente, anche se ha 3 secondi sull'orologio, non ha problemi a vincerlo, ma come si vince questo finale? Andiamo un po' avanti, e vi spiego il piano, H5, rene F3, F5, H4, l'idea è scambiare i pedoni, quindi rene D6, torre H7, perone per, perone per, e in questo modo, il finale è vinto, perché il bianco, riesce con il re, a catturare un altro pedone, infatti, il nero non può, sia difendere i pedoni, sia evitare la promozione, vediamo come, rene 5, rene 3, qui, Duda si accorge che il fiene è perso, e gioca torre in D8, dando anche vita facile al bianco, che può mangiare un H5, ma, voglio farvi vedere, giusto per conoscenza, perché magari in questo finale, può capitare anche a voi, anzi, fatemi sapere nei commenti, se vi può interessare, che commento dei fiene di torre, come questo, e magari faccio qualche lezione, in 10 minuti, al mio solito, su questi fiene di torre, per esempio, una linea, secondo me interessante, potrebbe essere rene F6, con l'idea di mantenere il re vicino ai pedoni, e difenderli, e la torre a bloccare il perere B7, ma, come si vince in questo caso? Si vince con rene F4, per esempio, re G6, si può fare torre D7, con l'idea di dare scacco al re, e poi mangiare il pedone, ecco, il piano per vincere, re F6, torre D6, rene F7, attacca la torre, non c'è problema, torre in H6, qui la torre non può mangiare il pedone, perché c'è il trucchetto con lo scacco, ma anche se non ci fosse, si potrebbero mangiare entrambi i pedoni, e con due pedoni di vantaggio, chiaramente, sarebbe vinto facilmente, Duda vede tutto ciò, fattore D8, prova in qualche modo, a creare scompiglio, ma dopo torre per H5, ovviamente, con due pedoni di vantaggio, la partita è finita, re in D5, e qui, abbandona, stretta di mano, è Maxime, Varsherla Grab, è il campione del mondo, Blitz, fantastico, una bellissima partita, secondo me, ma fatemi sapere che ne pensate, che è messa anche di questo mondiale, secondo me, super avvincente, con tantissimi colpi di scena, come dicevo all'inizio, più clamoroso, probabilmente, è Cartene, tutti si aspettavano un'altra vittoria, come l'anno scorso, e allora, lasciate un like, se vi piacciono il video, iscrivetevi al canale, per non perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima, ciao!